Ciao a tutti! Benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, oggi sono qua e inizialmente vorrei farvi vedere una cosa che mi ha regalato una mia amica cioè, che ha regalato a me, proprio a Christian, perché è una scatolina dove puoi mettere dentro tutti i suoi dentini visto che a lui ha caduto un dentino il 26 è minuscolo, vi giuro, ora voi non vedrete nulla però è carinissima ha dentro tutte, qua il nome, la costellazione, data di nascita, il peso qua devo scrivergli qualcosina io e poi tutta la forma dei dentini, è bellissimo qua abbiamo messo la data che ha scritto Christian e quindi ora ci rimetto dentro il dente poi lo sistemo perché va sistemato bene con la pinzetta ma in questo momento non ce l'ho sotto in mano non volevo troppo farvelo vedere perché boh, cioè voi che conoscete anche Christian che ancora aveva 4 anni e... no, che non aveva ancora 4 anni non aveva ancora compiuto 4 anni quando ho iniziato a fare i video su YouTube penso sia qualcosa di stupendo far mostrarvi che comunque ha perso un dente quindi sta già diventando grande cioè l'anno prossimo è già sera sono qui per riregistrare in realtà questi video perché li avevo già fatti però ero uno molto cruficionario cioè nel senso che addirittura ancora dopo un anno e qualche mese ho gente che mi chiede ma quindi tu sei una stessa incinta senza far sesso? e io vabbè chi mi chiede un Maria? perché il mio vero nome serve Maria e non me però i miracoli ancora non li ho mai ricevuti cioè... no quindi ho pensato che fosse carino riregistrarli con più chiarezza magari quello rumore possibile? grazie e... un pochettino più tranquillità va bene e... più soltezza perché mi sono resa conto riguardando i video che in realtà non so che vi dovete neanche io che sono lì alla contaglia che ho vissuto quelle cose perché ero molto tesa ero nei primi video sapete un po' no? partiamo dal principio io sono rimasta incinta nel classico mondo cioè ho avuto un rapporto sessuale e sono rimasta incinta non è che sono rimasta incinta da sola e... ho avuto un miracolo sono rimasta incinta senza far sesso o no? ma mamma a me piace il miracolo va bene quindi passa Natale passa Capodanno anno nuovo quindi salutiamo 2013 anno nuovo io già non stavo più mi sono lasciata il 31 di dicembre con il padre di Cristia quindi già non stavamo più insieme quando ho scoperto che ero incinta e niente e succede che l'8 o il 9 penso il 9 sì perché il 12 aspetta se il 12 era domenica l'8 sì no aspetta se il 12 era domenica io collezio il dicato venerdì quindi il sabato il 9 no il 10 il 10 sì il 10 il 10 di gennaio sì il 10 di gennaio è il litio che ho con uno dei miei compagni di classe nulla di che però ovviamente a 14 anni ci stai male mi sono messa sotto stress per sta questione e niente mi sto facendo la doccia domenica mattina quindi il 12 gennaio 2014 mi sto facendo la doccia doccia normale di quelle lì chiuse col vetro che si chiude non soffro gli spazi chiusi però sarà la porta chiusa la doccia chiusa l'acqua bollente perché all'inverno io faccio la doccia con l'acqua bollente anche l'estate però dettaglio inizio a sentirmi male inizio a soffocare mi viene un forte male di pancia che però solitamente il ciclo mi veniva anche con male reni fortissimo quindi non poteva essere il ciclo al che esco dalla doccia vado in camera e decido di raccontare tutto ciò che è successo a mia mamma che l'aveva già intuito perché comunque la figlia femmina penso che la mamma le capisca non così no? cioè penso che la mamma capisca le cose veramente con uno scocco di vita che mi porta in ospedale la tipa dell'accettazione del pronto soccorso mi chiama fuori dal vetro e mi fa ma c'è il rischio che tu possa essere incinta? e io faccio e no perché comunque arrivata in ospedale mi sono detto cioè dai non è possibile che io resti incinta la mia prima volta utilizzando anche il preservativo perché al contrario di quello che pensano molti il preservativo l'ho utilizzato forse il nostro errore è stato non controllare la bustina e niente in ginecologia mi fanno l'analisi del sangue col testo di gravidanza quindi l'H beta qualcosa ora non mi viene in mente l'urine che poi loro mi hanno fatto il testo di bastoncino che compri anche al supermercato quindi si poteva evitare di andare in gravidanza in ospedale sì però avevo forti mal di pancia veramente quindi mia mamma ha preferito portarmi dopo circa 4 ore mi chiamano in sala dalla ginecologa entriamo mi fa sedere e mi fa e questo non lo dimenticherò mai ma penso nessuno anche la ginecologa e l'ostetrica che erano io non se lo dimenticheranno mai mi fa ma lei ha avuto rapporti? e io rispondo no poi fa perché lei è incinta? e io non riuscivo a parlare ho iniziato a piangere penso sia anche normale mi è caduto praticamente il mondo addosso cioè io ero lì senta dritta e a un certo punto ho dovuto piegarmi in avanti perché non riuscivo più sentivo proprio le spalle che mi facevano male e pesavano e niente non ho parlato praticamente non ho parlato fino a due ore dopo mi fa vabbè adesso ti faccio un'ecografia per vedere come sta di quante settimane sei e io ero di otto settimane e mezza stavo per entrare nella nove cioè la successiva sarei entrata nella nove nella nona e niente e quindi durante l'ecografia io solo pianto io ero lì che piangevo facevo la sua ecografia io ero lì che piangevo e tremavo e a un certo punto mi sono girata non so perché mi sono girata verso l'ecografo e ho visto va va sta bellissimo durante il tragetto io ho pianto e basta non riuscivo a parlare ero in metro che continuavo a piangere non riuscivo a dire nulla ma piangevo perché avevo più che altro mi sentivo sola nel senso che avevo anche il cellulare scarico non potevo dirlo a nessuno mi sentivo sola avevo veramente tristezza non avevo neanche tanta paura di come sarebbe stato semplicemente in quel momento il mio cervello era nero non pensavo a niente non riuscivo a pensare a niente e nella mia testa si ripetevano in quella domanda ma lei ha avuto rapporti la mia risposta no e la sua contro risposta perché lei è incinta e anche tutta notte sono rimasta seduta per terra con le mani sulla pancia e lì ho immaginato appunto come sarebbe stato a me e per i bambini sono sempre piaciuti però non vi nego che se probabilmente non avessi avuto da subito l'appoggio dei miei genitori che mi hanno detto la scelta è tua io probabilmente non sarei neanche arrivata a pensare come sarebbe la mia vita con un figlio perché comunque i miei genitori a me hanno aiutato tanto hanno aiutato anche tanto a crescere quindi se non avesse avuto da subito che poi comunque le litigate ci sono stati i cassini ci sono creati ci sono stati ma se non avesse avuto mia madre e mio padre ad aiutarmi a sostenermi al loro modo probabilmente io non sarei diventata mamma perché non ce l'avrei fatta da sola comunque bloccate un attimo il video e fatemi sapere nei commenti sotto se mi sto spiegando bene se state capendo un po' di cose o se sono ancora incapace a fare video mi dicevo passano i 9 mesi di gravedanza e arrivano il momento del parto io avrei avuto la data il 25 di agosto cioè il termine il 25 di agosto e sono andata a fare la visita del termine ero dilatata di un centimetro però non avevo ancora perso il tempo mucoso mi hanno consigliato di camminare tanto allora io come mamma sono andata a fare le camminate tante camminate quel pomeriggio siamo praticamente arrivati al supermercato abbastanza lontano a piedi e lì inizio a avere qualche contrazione ma leggera come procede così tutto il 26 è proprio leggerissima e il 26 notte alle mezzanotte o qualcosa io mi alzo vado in bagno devo far pipì semplicemente nuoto il tappo mucoso quindi ho perso il tappo mucoso fantastico non avevo ancora contrassoni forti sempre leggere fantastico io ormai ero già convinta che comunque non avrei partorito più da sola perché mi hanno detto sì ma sei giovane probabilmente ritarderà di un po' fantastico e quindi mi ero già preparata psicologicamente a un parto indotto mamma vi giuro nel tornare dal bagno in camera mi sono piegata in due dei dolori una contrazione fortissima che non riuscivo neanche a respirare a muovermi mi sono fermata sono tornata a letto mi sono addormentata per risvegliarmi alle tre un'altra contrazione e così tutta notte la mattina faccio mia mamma e mi sa che ci siamo mi fa fare delle docce calde chiamiamo la ginecologa mi dice continua a fare docce calde se vedi che ti fa tanto male aumentano sono molto più ravvicinate continuo a monitorarle se sono molto più ravvicinate vengo in bagno doccia calda io un freddo assurdo che ad agosto praticamente con circa 40 30 gradi fuori mi sono messa la coperta di lana perché stavo congelando e metto sul letto sotto la coperta e mi addormento mi sveglia alle 12 incontrazione mi riaddormento perché comunque la notte un continuo vai vai svegliare a dormire se li addormentati a luna e 40 faccio un salto dal letto altri costi per la contrazione fortissima che non passa non passa e mia madre decide di portarmi in ospedale cioè andiamo in ospedale mi fanno la visita il prezzato le contrazioni ci sono ma sì sono forti ma non tanto da poter battorire però mi fanno il controllo dilatato di 4 cm ho già perso il tappo mucoso l'età che avevo mi tengono ricoverata mi portano in camera mia mamma va a prendere la valizia a casa perché non me l'avevo portata dietro e l'avevo dimenticata mi portano in camera e mentre mettono il tracciato mi passano le contrazioni e niente mi fanno cenare alle 7 c'è non maggio mezzo panico prosciutto ora mi alzo dalla serie e mi riniziano le contrazioni quindi non potevo neanche cioè ho bevuto un goccio d'acqua e poi basta mi dicono cammina tanto cammina tanto io e mia madre ci facciamo il corridoio avanti e indietro avanti e indietro andiamo un po' di qua un po' di lì un po' fuori sul balcone un po' in camera e parlo con le altre mamme cammino cammino di qua cammino di lì ogni 3x2 poi c'ho le contrazioni niente mi mettono un altro tracciato le contrazioni sono un pochettino più forti poi non ho ancora tanto da poter partorire inizio ad andare in sala parto intorno alle 8 e mezza dilatata di 5 cm perfetto cioè dalle 2 che sono entrate dalle 2,40 che mi hanno ricoverato alle 8 e mezza mi sono dilatata di un centimetro fantastico no? proprio un tra un parto a rilento fantastico e va bene ok mi riporto in sala parto alle 10 ancora dilatata di 5 cm va bene tanto le contrazioni aumentavano ed erano anche più forti però praticamente cosa è successo? lui si è aumentato e quindi non navigava si è incastrato e si è addormentato così voleva dormire stanco e voleva dormire e si è addormentato ok mi riporto in sala parto a mezzanotte indovinate di quanto l'ho dilatata 5 cm mi rimancavano altri 5 per poter parturire dalle 2,40 a mezzanotte mi ero dilatata solo di un centimetro ok immaginate la mia stanchezza non ho fatto tante storie però ero veramente tanto stanca i dolori continuavano ad aumentare anche dal tracciato alle 3 del mattino io stanca esausta con i contrazioni veramente ogni 3 minuti fortissime intense e lunghe chiedo di farmi più durare perché io avevo fiammato il foglio mi porto in sala parte quella che mi doveva fare l'epidurale e mi fa dimmi quando è la contrazione e beh la contrazione e l'avevo detto mi ha fatto l'epidurale durante la contrazione quindi ha bucato oltre cioè il mio parto fa ridere ha bucato oltre e fa ops ho bucato oltre fa proprio così ops ho bucato oltre e io e mia mamma che senso eh l'epidurale non è andata e io ah puoi farmi un'altra si testuali parole sue testuali anche mia mamma si ma potresti rimanere paralizzata io ero anche minore cioè io in quel momento avrei anche detto fammela facevo 15 anni non potevo scegliere io dovevo scegliere mia madre quindi mia madre ha detto non gliela fa niente tranquilla ok anche stufa e stanca chiedo se vi possono almeno dare un attacchipirino un antidolorifico mi fanno statacchipirino da 5% ho detto che immaginatevi naturalmente non ha fatto nulla soltanto fastidio perché non riuscivo a piegare il braccio con l'ago della flebo cioè con il coso attaccato e non mi permetterà di alzarmi perché dovevo stare sdraghiata quindi solo fastidio e ho tenuto duro alle 5.50 non ce l'ho fatta più mi sono messa a piangere perché ero di 6 cm quindi dalle 2.40 alle 5.50 della mattina io mi sono diravata più di 2 cm ero stanca volevo dormire volevo partorire ero anche preoccupata per il bambino anche se il battito c'era insistendo abbiamo chiesto se mi potevano fare un cesareo e mia madre diceva a 15 anni e loro rispondevano a 15 anni si può partorire ed è meglio un parto naturale che un parto cesareo va bene e allora io stanca mi sono messa a piangere e poi mi adotto le atte mi faccio allora mi aiuti in qualche modo perché io so che più che non rompo le atte il travaglio non va avanti ma io non ce la faccio più sono stanca non ne posso più veramente non ne posso più e mi sono messa a piangere forse l'unica volta in cui no sì due volte però in generale da quando sono entrata in ospedale l'unica volta in cui mi sono lamentata veramente tanto è stata quella perché ero veramente esausa erano quasi le sedie del mattino ero lì da ore e ore mi ero dilatata solo di 2 cm non ce la faccio più al che mi fa io ti posso rompere per metà il sacco e faccio va bene mi fa stendere sul letto alle 6 mi rompe per metà il sacco tra l'altro io di notte non ho avuto mai un'ostetica fissa perché ne entrava una mi visitava usciva dopo 3 ore ne tornava un'altra cioè ne trovava proprio un'altra che mi richiedeva di nuovo tutto allora io ogni volta devo stargli a spiegargli la mia età quanti si chiamavano alle 7 del mattino entra l'ostetica 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 e mi dice io da qui non esco finché tu non partorierai ok lei è la sua assistente che era una sta facendo il tirocinio e io bambina ok e veramente lei mi ha aiutato a destra tanto mi fa guarda ti faccio mettere in piedi stai in piedi guarda ti faccio sedere sulla palla guarda mettiti in questa posizione e fai gli squat prima di me ho fatto fare gli squat mi ha visitato da 2 cm che ero alle 5,90 sono arrivata a 7 solo stando in piedi solo quella che mi aiutava e mi diceva come fare vabbè anche la rottura del sacco ha aiutato molto ok verso le 8 io ero in piedi perché mi diceva sta in piedi che piega ti fa gli squat stavo facendo gli squat a una certa sento scendermi una cosa lì per lì un distinto ho messo la mano e ho sentito qualcosa e le ho detto devo spingere però ero dilatata solo di 8 cm e mezzo però io sentivo proprio che dovevo spingere me lo sentivo cioè il mio corpo mi diceva devi spingere anche ho iniziato a spingere tante spinte grandi spinte e mi sono stancata non c'era più il battito del bambino viene anche e mi ha messo l'ossigeno per farmi prendere un attimo cioè il battito del bambino era debole il mio quasi assenta e ho chiuso un attimo gli occhi e quando le ore aperte mi sono trovata questa maschera d'ossigeno e mi dice che cosa è successo e fa continua a spingere devi spingere e fai tutte le contrazioni spingere tutte le contrazioni e io faccio ma non so come si fa non mi è partorito e fa segui il tuo corpo anche ho seguito il mio corpo ho fatto tutta la spinta Cristian non ha pianto non perché ha messo il cordone intorno al collo e Cristian non ha pianto perché non riusciva a respirare era scuro un po' per lo sforzo un po' perché non aveva il respiro non aveva qualche riesco non so a dirmi è maschio lo prendono e lo portano fuori e io ne ho amma lì così che ci guardiamo e mamma ha il cuore dietro loro io che continuo a dire cosa sta succedendo e passano veramente tanti minuti che a me in quel momento mi sono sembrati veramente anni quando in realtà sono passati solo cinque minuti e la madre torna in camera e mi dice guarda che è normale io faccio un lavoro è normale perché io in gravidanza mi sono vista tantissimi infarti e a nessuno mi ha capitato questo quindi non prendermi in giro non è normale a un certo punto sento un pianto io sapevo che ero l'unica in sale parto cioè nelle sale parto ero l'unica che stava portando a quell'ora entra il ginecologo e mi fa questo è il pianto del tuo bravo bambino allora mi tranquillizzo un attimo però non l'ho visto io l'ho visto soltanto alle tre del pomeriggio Cristia mi hanno dovuto mettere i punti mi hanno messo non so quanti punti perché non sono stata lì a contarlo però so solo che dalle 8.28 sono uscita da lì alle 12 all'11.40 quindi 12.20 va bene nel frattempo comunque mi hanno fatto esbellare la placenta intanto che io parlavo con mia mamma poi mi hanno messo i punti e posso dire che mi hanno fatto male perché me lo avete chiesto sì perché mi hanno fatto l'anestesia mi ha forte fatto più male l'anestesia però l'anestesia mi è durata un'ora quindi alle 9.40 hanno iniziato tipo alle 8.40 alle 9.40 io l'anestesia non ce l'ho già più sentivo tutto ho sentito tutto e niente Cristian è stato in terapia intensiva non riusciva a respirare da sola avevo bisogno di un aiuto però ha avuto l'ossigeno solo per due giorni poi l'hanno tolto poi è rimasto lì perché ha preso un'infezione incubatrice alle feci quindi è stato lì un detto un po' però diciamo il più grave è stato l'impatto vederlo lì abbassare la testa vedere tuo figlio completamente nero immobile che non respira non piange penso che sia brutto anche 50 anni quindi immaginatevi una ragazzina di 15 quanto questa cosa l'è toccato dentro e vabbè e niente diciamo questo è tutto che mamma mia ho ancora male adesso parlarne io pensavo di riuscire a parlarne senza magoni senza stare male ma probabilmente non sarà mai facile però niente fortunatamente tutto è andato per il meglio dunque io vi lascio spero di essere state il più chiara possibile vi ringrazio di cuore e per se siete arrivati fino a questo punto del video se vi va e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace se siete mamme o comunque avete avuto esperienze con parto e vi va ad iscrivermelo nei commenti vi leggo e vi rispondo e se vi va ad iscrivervi al canale mi farebbe piacere e anche Cristian perché comunque porto contenuti anche con mio figlio non è solo mio il canale vi mando un grosso bacio come sempre vi lascio comunque il mio instagram qui perché penso sia più facile rispondervi e comunque lì faccio molti sondaggi inerenti ai video che registro quindi di iscrivermi se avete bisogno di qualcosa io sono lì trovate il link diretto in descrizione e in descrizione trovate anche il link diretto al mio libro che sto scrivendo vi mando un bacio di nuovo mi mando tanti e grazie se vi siete persi gli ultimi video li trovate qui potete iscrivervi al canale qui